Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video. Oggi portiamo un altro deck consigliato molto budget, questa volta si parla di mazzo budget ma anche mazzo base da cui partire, secondo me è un'ottima base da cui partire. Il mazzo è ovviamente il Destiny Hero di cui avevamo già parlato un paio di video fa, questa volta vi porto un'analisi leggerissimamente più dettagliata così vediamo un attimo pro e contro del mazzo. Come sempre prima di iniziare vi invito a iscrivervi al nostro canale e passare il link social in descrizione. Grazie mille. Allora Destiny Hero versione ovviamente budget, vedrete che mancheranno alcune carte ma dato che è una lista basica è ovvio che manchino determinate carte. Tra l'altro una lista ovviamente, io me ci trovo bene e ve la do sempre come spunto, poi ovviamente ognuno decide di conseguenza come ci si trova, la può anche ribaltare completamente, io do sempre uno spunto, poi ovviamente ognuno fa come gli pare. Allora mazzo veramente molto interessante, deck che ha un'ottima sinergia essendo Hero perché Hero comunque riesce, gli hanno dato dei supporti molto buoni per fare un'ottima sinergia tra di loro quindi anche con poche carte aggiunte riesce a veramente dare tanto. Il deck può permettersi di fare molti recicli e riesce comunque a pescare tanto, visto che è quasi puramente Destiny Hero perché c'è qualche supporto, qualche extender per aumentare la forza del deck ma è quasi praticamente tutta oscurità quindi si può permettere sia la pescata del destino e sia la Lord of Darkness. Abbiamo tanto mostri da scartare sia per la pescata del destino che per il fascino dell'oscurità, molto buono. I cani che abbaiano sono sempre i ben accetti ovviamente. Quindi mazzo che ha delle combinazioni molto buone soprattutto per quanto riguarda il Dark Angel perché è una carta che ti fa praticamente Imperial Order, se hai tre mostri ero del destino te lo scarti poi te lo rievoca sul terreno dell'avversario. Il giocatore che lo controlla ovviamente dato il testo della carta quando attivi una magia quella si risolve e poi viene negata. Una carta veramente interessante, carta che gioco in due per perché è una carta che è molto buona, la puoi utilizzare partendo primo per bloccare l'avversario, se al turno dopo non riesci comunque a chiuderla te ne serve un altro per poi evocarlo sul terreno dell'avversario. Quindi io lo gioco in due copie perché serve veramente molto. Poi Denier, carta fenomenale perché ti permette di riciclarti il Malicious perché tu te lo evochi specialmente a gratis, quindi carta veramente ottima. Quando te lo evochi ti permette di prendere un mostro bandito dal cimitero o anche dalla mano mi pare, mischiare nel deck e quindi ogni volta che ti rimuovi un Malicious se ti regali Denier te lo rimetti nel deck e fai ripartire un'altra volta la combo Malicious, molto forte. La carta principale del mazzo, si può dire sì, è il Link, il Link è veramente molto forte, il Cross Crusader si gioca facilmente, ti evoca un mostro, ero del destino dal cimitero, quindi ti inizi a fare le combo, inizi a riciclarti le carte, puoi tributare tranquillamente un mostro per aggiungersi un'altra carta hero nel dal deck, alla mano, veramente molto forte. In più ci puoi mettere il cambio di maschera per giocare il Dark Law, la maggior parte delle volte lo cari sempre di primo, riesci a farlo tranquillamente. Una combo stratosferica random, completamente random è con il Draw Hand, perché il Draw Hand quando si speciala per l'effetto di una carta, quando mi pare lo speciali, lo speciali, non mi ricordo bene, praticamente permette di pescare sia a te che all'avversario una carta. Avendo Dark Law, quando l'oppo si aggiunge carte in mano, tralasciando la pescata di Draw Face, si banna una carta a caso dalla mano, quindi è veramente forte, ho tolto un sacco di Lightning Storm da questo punto di vista, quindi è una combinazione veramente ottima. Ma poi fai Dark Law, Dark Angel di primo, quindi riesci magari a chiudere già la partita così. Parliamo anche di un Going Second abbastanza forte, perché comunque, allora se parti primo riesci a fare la combo Dark Angel e magari Dark Law al turno dopo riesci anche a chiudertela, perché comunque polimerizzazione ce l'hai sempre, quasi sempre in mano. Hai anche le Super Poli, che permettono comunque di togliere i mostri importanti all'avversario, i Dragon che se ne andavano, quindi ottima soluzione. Abbiamo Distopia, la Fusione, quando viene evocata, targetti un Destiny Nero al Cimitero, all'oppo gli infliggi danno, pare l'attacco del mostro, quindi inizi a togliere l'LP, che è tanto, perché poi tu riesci a calarti tranquillamente il Maestro del Terrore, completamente a caso, riesci ad arrivare a un attacco devastante, riesci ad arrivare a 6.000, quindi è tanta roba, riesci ad otticappare tranquillamente, perché il mazzo riesce a fare tantissime special. In più abbiamo qualche extender, come il Vylon, come il Solid Soldier, quindi evochi e ovviamente ti fai una normale in più. Con il Vylon ti mandi un mostro dal deck al cimitero. Ho un solo Nebbia Ombra, perché è pesantissimo e non lo voglio mai vedere in mano. La maggior parte delle volte lo voglio mandare via dal deck al cimitero per raggiungermi roba, quindi... Su questo punto di vista è una carta discreta da poter mettere nel mazzo, ma comunque è un po' pesantina. Ho evitato di mettere roba tipo Stratos, perché al momento in questa versione io preferisco pescare, nel senso... Stratos è molto forte, ma nella versione mixata va messo assolutamente, però dato che io voglio evitare di fare normal per Stratos e aggiungermi una carta e magari me la negano perché mi attivano vele, rush, impermanence e tutto quanto, preferisco averci allure e più target oscurità possibili da evitare già da mettere nel mazzo per poi scartarli. Poi ovviamente io ho tolto anche di forza, perché è una carta anche essa molto forte, ma il problema, almeno dal mio punto di vista, mi è stata pesantissima, perché ho sempre preferito pescare altro invece di lei. Quindi togliendola sono riuscito comunque a pescare quelle carte che mi servivano per far partire il mazzo. Carta molto forte, quindi io l'ho messa comunque nella side della lista, della decklist del mazzo, che poi ovviamente vi farò assolutamente vedere, anche il Dr. D è un'altra carta molto buona, ma non l'ho inserito perché giocavo il grande destino, quindi targetti un mostro dal cimitero, dai cagli un altro dal deck con metà livello o inferiore che è un'ottima mossa, ma anche il Dr. D comunque non è malaccio. Quindi, vi ho detto, qualche carta l'ho tolta, ma comunque il mazzo rimane veramente molto forte, poi anche il dominio del destino è un'ottima carta. Poi ovviamente abbiamo le super poli che ci permettono di togliere i mostri dall'oppo, oppure durante la battle la attivi, ti cali magari il dominio contro i mostri del destino, che non ci fai niente e chiudi la partita. Quindi, io vi dico, deck è veramente interessante, come base è veramente molto forte, andiamo a vedere il pro e il contro, quindi la debolezza e i punti di forza, che io non mi ricordo, quindi devo utilizzare questo. Allora, debolezze, ovviamente non è un deck competitivo, è migliorabile, ma comunque può dare, può dire la suma. Troppe HT lo possono bloccare, è vero, ma comunque un pa' 1-2 HT te le regge tranquillamente. Se l'oppo magari ce n'ha 4, cavolo, ok, mi neghi, però il turno dopo, 4 carte in mano, non parti tu. Poi, bisogna fare attenzione al cimitero perché ci gioca abbastanza, quindi magari un dueller o un qualcos'altro può intaccare tantissimo, e bisogna fare attenzione agli spacchini, ai spacchini tipo raggi e buonero che si li prende tutti, quindi bisogna stare veramente molto attenti. Il raggi e 3 purtroppo te lo può prendere, così anche come lo skill drain, ma questi sono appunto carte che purtroppo te le becchi comunque. Punti di forza, punti di forza, un prezzo ovviamente basso, è un'ottima base, ottima serie gine e tanti peschini, è un buon riciclocarte, potenziale ordine imperiale macrocosmo, riesce a fare OTK abbastanza facilmente, l'ho fatto un sacco di volte, e ha comunque un buon reparto extra, quindi molto molto buono. Poi ovviamente qui c'è, faccio vedere sia la decklist, ma non so in fase di montaggio se ve la metto prima o dopo, l'immagine con le carte, e poi ovviamente c'è la decklist completa, che vi farò vedere con tutte le mostri, quindi abbiamo due di plasma, che intanto vi riuscite sempre a vederle in mano, dogma, del master, due malicious, poi un dynatang, un celestial, un 3 dildar, un decider, un drawhand, un diamond dude, un denier, un commander, un dark angel, poi un shadow miss, 3 vylon, 2 solid soldier, poi con le magie ovviamente abbiamo destiny draw, valor of darkness, over destiny, 3 mask change, 2 super poli, 2 polimerizzazioni, un collar, un reborn, un foolish, e una rejeki potrebbe sempre essere utile. Di extra abbiamo dominance, distopia, il dangerous, due extra hero cross crusader, carta molto buona, wonder driver, dread desimator, dark love, koga, star in venom, muddragon, bagusca ed exciton. Le altre carte ovviamente inseribili, possono essere stratus, un altro denier, un dreamer, anche vanity, ho fatto la combinazione con vanity, una volta ho chiuso con plasma, con dark love, e appunto vanity, poi mi sono beccato il buco nero, però vabbè. Dr. D, di force, necrofusion, diffusion, un nanki, un maschile di hero, magari un altro dark love, un altro crusader magari, un planet plan drago sta pelia, come target super poli, un altro magari, un dactopia, un duelle, e un destiny dragon hand, che potrebbe essere utile, anche se io in realtà non lo inserirei. Detto questo, fatemi sapere appunto voi cosa ne pensate, noi come sempre ci vediamo in un prossimo video, e un saluto a tutti.